Come sottolineato da sindaci e amministratori in diversi piccoli comuni della regione Campania, soprattutto nelle piccole frazioni, ha osservato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, si registra un disagio dovuto alla mancata apertura quotidiana degli uffici postali. Le comunità locali interessate da tale disagio risiedono per lo più nelle aree interne e molto spesso nelle aree montane della nostra regione. Le poste, ha proseguito Pellegrino, rappresentano ancora un punto di riferimento importante, soprattutto nelle piccole comunità, un presidio indispensabile e utile soprattutto per le persone anziane che, avendo qualche difficoltà in termini di mobilità personale e familiare per usufruire dei servizi di poste italiane, si vedono costretti a spostarsi e recarsi nei comuni capoluogo conoscendo la grande sensibilità e l'attenzione che poste italiane rivolge alle aree interne e ai piccoli comuni, ha concluso Tommaso Pellegrino, sono certo che nel momento in cui rappresenteremo tali polemiche ai dirigenti si riusciranno a trovare opportune soluzioni. Ringrazio dunque il presidente della terza commissione speciale aree interne, Michele Cammarano, per aver celermente calendarizzato la risoluzione.